Il Pescara chiude il ciclo di partite programmate sul campo di Palena, superando 4-1 il Pineto. Prova non proprio convincente dalla squadra di Massimo Oddo, ma questo è in buona parte comprensibile perché con due settimane e mezzo di lavoro le gambe non girano imballate dalla preparazione. La voglia di ben figurare del Pineto, che peraltro è al lavoro da poco più di una settimana, ha fatto il resto. Semmai quello che può più preoccupare Oddo è la tenuta difensiva, ma soprattutto la questione infortuni. Appena prima del test, l'allenatore aveva espresso la sua relativa preoccupazione perché vorrebbe quanto prima quei rinforzi chiesti alla società. Neanche a farlo apposta, alla fine del primo tempo il centrale Andrea Coda è uscito dal campo toccandosi più volte linguine. Considerata l'assenza di Campagnaro per un risentimento ad un polpaccio e con Fornasier che praticamente non ha fatto la preparazione e secondo Oddo sarà pronto tra un mesetto, ecco che al primo di agosto si può quasi parlare di emergenza difesa. Nel primo tempo Coda è stato affiancato dal baby Diallo. Nella ripresa con Zuparic al centro è stato adeguato un terzino, quale Biraghi. Urgono dunque rinforzi. La situazione Gionber non potrà sboccarsi prima del 5 agosto, quando il difensore slovacco farà rientro dalla turnecola Roma. E allora nelle ultime ore il Pescara ha intensificato i contatti con l'entourage del difensore polacco del Lega Varsavia, Michael Pasdan, autore di un ottimo europeo. L'operazione tuttavia non è facile. Tornando al test con il Pineto, Oddo ha fatto ruotare in porta Pigliacelli, Aldegani e Aresti, tenendo fuori Bizzarri e il vice Fiorillo. Ancora buone indicazioni Dani Castro, autore del primo gol. Primo tempo chiuso sul 2-0 con il raddoppio di Ben Ali. Nella ripresa bene il solito Caprari, autore del quarto gol e fautore del momentaneo 3-0 di Manai. Nel mezzo la rete del pinetese Antonini, la prima incassata in questo ciclo di amichevoli dei Biancazzurri. Ancora interessanti i quizi del Baby del Sole, cui solo il palo ieri ha negato la gioia del gol. Il Pescara si appresta a chiudere il ritiro di Palena. Dopodomani si sale di livello come caratura di avversario al Menti sfida contro il Vicenza, squadra di Serie B allenata dall'ex Franco Lerda nell'ambito del Memorial Morosini. Sabato prossimo a Casteldisangro amichevole col Celta Vigo, squadra di Liga Spagnola. Partite che diranno molto di più sullo stato delle cose in casa Pescara, in vista delle prime gare ufficiali di Team Cup del 13 agosto, di campionato contro il Napoli il 21.